Seconda edizione al Parco Vittoriese sullo stradale peracate di quattro passi nella storia in programma nel fine settimana. Stavolta al centro della rievocazione storica proposta dall'Associazione Sorrisi e Canzoni e Chirat ci sarà la vendemmia presentata sotto mille sfaccettature. Ci saranno come sempre gli attori che reciteranno e guideranno i visitatori all'interno del Parco e Cesta Urbano. Questa è la seconda edizione della vendemmia che facciamo per valorizzare il nostro parco di Serra San Bartolo, nonché alla fine quel che conta è il vino Cerasuolo di Vittoria, portiamo avanti questa politica del nostro vino, del nostro territorio. Una storia antica che ormai i giovanissimi non conoscono, quelle grandi che la rivedono si ritorna un'altra volta bambini, dunque con grande soddisfazione invitiamo tutti quanti a venirci a visitare.